ciao a tutti e benvenuti sul mio canale senza logica massicogita come potete vedere qui con me c'è il dottor fosco loregiani ciao fosco ciao anche oggi con il buon fosco discuteremo di linguaggio logica matematica dimostrazioni verità conoscenza e altre inutili sciocchezze insomma il senso della vita sì quel poco che abbiamo capito del senso della vita devo dire che ci avete tempestato di domande in merito ai precedenti video e io naturalmente le ho inoltrate tutte a fosco chiedendogli a quali di quelle domande avremo risposto e fosco mi ha scritto a tutte quindi è il caso di cominciare subito proviamo almeno ovviamente me ne sono segnate perché insomma allora vediamo un po si può spiegare la teoria delle categorie in dieci minuti perché si chiama così a cosa serve e cosa dimostra allora innanzitutto mi preme sottolineare che quello che è successo è che michele mi ha mandato le domande e io ho perso un paio d'ore a risponderli per iscritto quindi c'è una traccia scritta di quello che ci siamo scambiati non so se lui voglia usarla come come diciamo come prop per questa chiacchierata che facciamo oggi se sì o no dimmi tu sì magari la posso mostrare a monitor diciamo va bene sì esatto era era la mia idea d'accordo e no allora io cerco di seguire quello che mi ricordo di quello che ti ho risposto chiaramente poi ho dimenticato tutto allora si può spiegare la teoria delle categorie in poche parole quello che ti ho detto è sì però bisogna usare delle parole molto difficili e io sono convinto che si possa dare un'idea intuitiva a una persona che non sa la matematica questa idea è stata anche un po abusata dalla divulgazione negli ultimi anni c'è poi anche una storia lunga sulla maniera in cui questo linguaggio è diventato una una un po più appannaggio anche di matematici applicati e questo però è una chiacchierata molto più lunga che dovremmo fare in separata sede e l'idea è che la teoria delle categorie sia una maniera di fare matematica con la filosofia strutturalista le le cose non hanno un significato molto profondo quando le si guardano da sole ma solamente quando sono in relazione ad altri oggetti e definire questi oggetti cosa sono come si comportano con quanto è grande la scatola dove sono messi è un po il la prima il punto di partenza ora come tutte le idee filosofiche è talmente generale che se la sarebbe potuta inventare anche un bambino certo poi quando ci si fa matematica dentro ovviamente diventa molto tecnica parecchio tecnica e diventa anche molto poco astratta secondo me perché si basa su problemi di posso ridurre una certa espressione algebrica in un'altra sì no in che senso a volte sì a volte no e poi ovviamente non mi ricordo cos'altro diceva la domanda a cosa serve beh e a nulla come tutta la matematica pura che si rispetti e cosa dimostra io ti ho menzionato il fatto che c'è questa questa sorta di ci prendiamo in giro a vicenda tra categoristi dicendo che la teoria delle categorie non ha teoremi o ne ha tre e uno di loro è un lemma perché un risultato fondamentale della teoria delle categorie di base si chiama lemma di yoneda yoneda era un matematico in effetti un informatico giapponese che ha notato una semi tautologia che poi però è diventata una una pilastro del linguaggio categoriale perché ha un'interpretazione molto profonda è un risultato che allo stesso tempo parla di logica di algebra di geometria è il motivo per cui una parte congrua della matematica del novecento esiste è questo risultato da solo e noi lo chiamiamo lemma perché è roba da poco capisci in confronto a quello che vogliamo fare nella vita di tutti i giorni anche se ha dato i natali a più di una teoria matematica e quindi sì c'è questa schizofrenia un po tra l'understatement costante per cui alla fine non facciamo niente di importante e tanto che i risultati fondamentali per noi sono dei lemmi e invece una una visione un po più egocentrica un po più anche sensibile alle critiche un po più permalosa ecco non mi veniva la parola e quindi sì un po' e un po' ci dipende da chi trovi da chi conosci io cerco di essere nei giorni pari uno nei giorni dispari l'altro io volevo sottolineare a chi ci ascolta che Fosco ha utilizzato i termini idea filosofica questa non è non sono due termini casuali cioè molto importante va bene va bene andiamo allora la seconda domanda secondo voi perché non insegnano matematica a filosofia presumo nel dipartimento di filosofia beh allora qui la cosa migliore intanto ho ritrovato la documento che ti ho mandato la cosa migliore che posso fare è leggerlo sì quello che ti ho risposto è l'abitudine al pensiero rigoroso svelerebbe che la maggior parte dei filosofi sono dei cialtroni o dei venditori di fumo che sfruttano ambiguità linguistiche per parlare ora ed ora riguardo al niente in più in italia esiste una radicatissima e incurabile cultura antiscientifica che disingentiva chi vuole approfondire le scienze esatte avendo una formazione umanistica con questo voglio dire che sì molte persone purtroppo che si occupano di filosofia nella maniera in cui un po di linguaggio matematico possa aiutare purtroppo tendono ad essere molto poco competenti in quello che fanno quando parlano di matematica perché arrivano fino a dove la loro formazione gli ha permesso ora non voglio offendere nessuno con questo è quello che penso mi tengo la mia opinione cerco di essere diciamo aperto al cambiare idea però purtroppo aver interagito con tante persone nella vita mi ha fatto concludere che non c'è proprio modo di stabilire un dialogo proprio per quella permalosità di cui ti parlavo prima che alcune persone hanno e la mia impressione è che molte persone parlino del nulla e si offendano quando glielo provi a far notare ora questo significa che la questo tipo di atteggiamento rende impermeabili al pensiero matematico perché la matematica ha una enorme componente di umiltà secondo me devi essere poco convinto delle tue idee per metterti a farla con profitto perché devi essere pronto a diciamo fare tabula rasa di quello che sai o di quello che sei convinto di sapere per sostituirlo con una forma di conoscenza esatta ok il fatto è che preda del relativismo spinto il pensiero debole compagnia cantante la 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 l'umanista quadratico medio cioè la persona statisticamente presa a caso da un pool di umanisti è convinta che la matematica sia un linguaggio limitato proprio a causa della sua esattezza ora è precisamente il contrario è un linguaggio inesatto che è fortemente limitato è un linguaggio che non definisce le cose di cui parla che ha delle limitazioni perché prova ne sia il fatto che ci sono questi queste tribù di personaggi che cercano di mettersi d'accordo sul significato primitivo delle parole delle degli indefiniti del linguaggio e poi fanno tutti fanno tutte queste seghe mentali su come è possibile che la tal cosa significhi questo nella mia testa non nella tua è chiaro che questo sia una domanda con una certo con una certa importanza con un certo peso ma non si può affrontare con questa appunto per questo non si può affrontare in maniera semplice e non si può affrontare senza fare un processo di raschiatura di tutto quello che è che la matematica non ha fatto perfettamente perché comunque un prodotto degli umani però è il meglio che abbiamo e il la l'ostilità verso il pensiero scientifico che viene da che è una storia lunga in italia è questo di quello di cui parlavo quando dicevo che c'è una cultura antiscientifica è immotivata ed è anche un po ridicola sarebbe come non lo so avere una cassetta di attrezzi e rifiutarsi di usarne alcuni perché sono troppo affilati oppure alcuni perché la maniera in cui ho imparato ad operare o a costruire una cassettiera è una una è diversa usa degli strumenti diversi gli attrezzi diversi e certo si può fare ma per quale motivo vietarsi l'uso di certi strumenti ovvero di certi linguaggi per capire oppure per quale motivo imparare in questa maniera così raffazzonata così imprecisa così instabile e soprattutto perché io ho visto i libri di logica che ho assistito delle lezioni di logica fatte a filosofia non parlo di cose che non conosco come diceva moretti famosa me sono andato ho parlato con queste persone ho cercato di intero quando ero più giovane ero molto meno massimalista e non davo gratuitamente agli altri del cialtrone e non parlo di nessuno in particolare non non faccio nessun nome perché non è che ce l'ho con qualcuno semplicemente c'è una pressapochismo istituzionalizzato nel modo di imparare una cosa per cui io ho un enorme rispetto io ho deciso di di studiare una scienza dura di sottopormi anche a un enorme carico cognitivo di fatica di 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 pur con le io capisci non mi reputo una persona particolarmente geniale nel tempo forse sono diventato abbastanza colto forse ho molti riferimenti culturali molto diversi ma semplicemente perché ho ascoltato tante persone per me non è mai stato naturale o nemmeno piacevole studiare questo linguaggio l'ho semplicemente riconosciuto come quello giusto per sufficientemente espressivo e potente per cercare di meditare che è quello che volevo fare nella vita su i problemi che per me erano urgenti cos'è il linguaggio cos'è il tempo perché io e te stiamo parlando e in quale in quale dimensione lo stiamo facendo capendoci l'un l'altro che cos'è questo misterioso meccanismo che interviene nei nostri cervelli e che mi permette di spiegarti un'idea tu la capisci e di rimando me la ritorni e cosa significa la conoscenza di un fatto da dove viene qual è il processo cognitivo e come si organizza queste erano le domande quando avevo 16 18 anni io non dormivo la notte perché mi chiedevo queste cose e compravo la favola che la filosofia possa rispondere a queste domande non lo può fare perché non ha un linguaggio sufficientemente potente la matematica in parte ce l'ha e la sinergia tra queste due discipline è l'unico modo di 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 avere speranza di imparare qualcosa di profondo su l'universo inteso in maniera molto pre presocratica perché il problema è sempre quello da millenni sempre è sempre stato quello cos'è questa fascio di energia e materia che sono circa la stessa cosa in cui siamo immersi faccio di nuovo notare che le idee esposte da fosco possiedono una base filosofica molto radicata questo è importante attenzione e c'è una cosa che mi infastidisce molto devo dire quando qualcuno espone tesi come quelle di fosco che sono praticamente identiche alle mie viene accusato di essere scientista è una cosa che trovo molto fastidiosa devo dire comunque andiamo avanti passiamo all'altra domanda ecco qui la leggo così come ce l'avete inviata se un giorno incontrassimo una razza aliena avrebbe la nostra stessa matematica se la matematica è scoperta sicuramente avremmo la stessa matematica ma se è inventata potrebbe anche essere diversa come facciamo a comunicare si può dimostrare matematicamente che gli alieni avrebbero una matematica diversa dalla nostra questa è una domanda molto interessante forse la più interessante del gruppo e infatti qui ti ho dato una risposta molto lunga vediamo se riesco a organizzarla ricordandomi con aiutandomi un po con la con lo script ok allora come fare a comunicare innanzitutto è un problema preliminare a avremmo la stessa matematica perché se non abbiamo una lingua condivisa non abbiamo idea dell'avere o no la stessa matematica o dell'averla o del dell'avere alcune parti ma non altre e così via quindi prima di tutto dobbiamo risolvere un problema di barriera linguistica in questa in questa direzione c'è come si chiamava quel film arrival no sì 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 esatto dove una linguista la linguista più famosa del mondo impara la lingua aliena poi sa sa prevedere il futuro perché questa lingua si ti ti permette di insomma una 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 tesi molto forte a conforto dell'ipotesi sapere war e ora dovremmo innanzitutto capirci poi però c'è un altro film di fantascienza molto famoso che viene da un libro in realtà contact dove jodie foster dimostra di avere ricevuto un segnale da una razza aliena perché il telesco il radiotelescopio di cui è la direttrice riceve questo ticchettio che però non è né casuale né 123 o costante ma è la successione dei numeri primi allora dice quale fenomeno naturale segue una progressione che è quella dei numeri primi quindi questi sono questa è una forma di vita che sta comunicando con noi ora cosa siano i numeri primi per questa razza aliena come facciano aritmetica cosa sia cosa pensino di della della struttura che i numeri primi formano nei numeri naturali questo non abbiamo modo di saperlo finché non non stabiliamo una lingua ponte però secondo me è interessante anche notare che nella nella nel regno animale questi fenomeni ci sono delle razze animali che usano usano in un senso molto blando la nozione di numero primo perché c'è una razza di cicale la cui il cui ciclo vitale è di diciassetti o di tredici anni in ogni caso un numero primo di anni per cui sono dormienti nel sottosuolo per questi tredici o diciassette anni poi escono dalla dal loro bozzolo sotterraneo si accoppiano fanno le uova e il ciclo ricomincia e tra l'altro una volta che sono usciti hanno un ciclo vitale molto breve e che serve solo a riprodursi ora spero di aver ricordato correttamente questa storia ma il punto è questi insetti sanno cos'è un numero primo ovviamente questa è una domanda un po sciocca da fare perché bisogna o meglio è una domanda pesante che sta implicando diverse cose cioè che un animale possa avere la metacognizione che è necessaria a rendersi conto che la maniera più efficiente di bla 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 è seguire un ciclo vitale che sia un numero primo di anni in realtà quello che succede è che c'è una pressione evolutiva da parte di predatori che hanno un ciclo vitale che è di un che è un altro numero e l'unica maniera di incontrarsi allora se i cicli vitali e riproduttivi di queste due specie preda predatore sono entrambi dei numeri primi è quando è ogni 13 per 17 anni facciamo se i numeri primi sono 13 17 perché per ogni numero inferiore a 13 per 17 uno dei due sarà sfalsato rispetto agli altri o le prede non avranno predatori o i predatori non avranno predi questo è allo stesso tempo una enorme un'idea secondo me molto profonda che viene però di fatto solo dalla teoria dell'evoluzione dalla maniera in cui si trova un un ottimo un un equilibrio di nesci in un sistema dinamico che è a sua volta un'idea matematica però chiaramente gli animali non conoscono questa questa idea allora è una è una loro non può essere una loro scelta capisci è una osservazione ex post fatta sulla base della della del fatto che questo è l'equilibrio dinamico di un sistema di cui loro sono solo gli attori ok i giocatori cosa significhi questo a livello della presenza o no della matematica nella realtà secondo me è un problema che non risolveremo in questa chiacchierata chiaramente ma che è anche estremamente affascinante perché la 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 maniera in cui un'idea matematica governa il comportamento della realtà è di nuovo la radice della mia fascinazione per le cose in generale cioè il fatto che il fatto che questo argomento a me sembri ovvio si basa sul fatto che conosco l'aritmetica di base d'accordo la nozione di numero primo la nozione di equilibrio di un sistema dinamico e queste cose dovrebbero essere patrimonio di una persona istruita secondo me perché una volta che sono state date queste chiavi per interpretare un fenomeno non solo il fenomeno è cristallino limpido nella sua natura e dopo ci possiamo chiedere come e come mai accada così qual è un significato più profondo se gli insetti sanno o no la matematica insetti sono solo un modo concreto di parlare di questi alieni ok il se vuoi una un'opinione forte ok se arriva una razza aliena e dobbiamo comunicare di certo saranno i protagonisti di di arrival linguisti matematici e fisici a stabilire una lingua ponte a cercare di capirsi a vicenda dire ah ma tu come le le fai le equazioni differenziali come le risolvi come hai risolto il problema del viaggio interstellare è chiaro che un fisico vuole sapere quello ecco di certo i filosofi non avranno molta voce in capitolo magari dopo però quel tipo di comunicazione non lo so non so come spiegarlo bene ma c'è anche questa idea di stabiliamo un linguaggio e dopo iniziamo a parlare delle cose importanti le cose importanti sono come hai costruito la la navetta spaziale come hai risolto come una cosa che mi ricordo che ti ho fatto notare è a me piacerebbe molto sapere come questa ipotetica razza aliena capisce cosa capisce perché chiaramente capisce tutto meglio molto meglio di noi della teoria della relatività perché ha dovuto scontrarsi con qualcosa di oggettivo che è il comportamento dell'universo sia qui che lì che circa lo è lo stesso ok quindi in un linguaggio diverso con una matematica diversa che magari non sembrano e meno matematica a noi però loro sanno cosa sono le equazioni di di einstein ok sanno come risolverle sanno come usare la conoscenza che queste equazioni e le soluzioni danno su come funziona il cielo ok e cosa succede se sparo una navetta spaziale molto veloce nello spazio e vorrei sapere appunto cosa hanno da insegnarci perché chiaramente se sono arrivati loro qui e non viceversa sono loro che sono più bravi ecco e invece ci sono degli aspetti della matematica che non è affatto scontato loro possiedano o non è affatto scontato che possiedano nella maniera in cui li possediamo noi con lo stesso tipo di interpretando la struttura nello stesso modo ok sarebbe molto interessante sapere se hanno qualcosa tipo la teoria delle categorie ma io ti stupirà questa cosa ma io non non credo lo trovo molto poco probabile perché perché secondo me la teoria delle categorie è una maniera molto umana di fare matematica nel senso che è basata sulla particolare struttura del nostro apparato cognitivo secondo me che è fatto molto più per riconoscere dei pattern nella in una serie di punti nello spazio piuttosto che per esempio contarli ad occhio noi non sappiamo capire c'è una credo che tutti ad occhio tu riesca a distinguere quantità che sono uno ovviamente due tre quattro cinque già cinque sei devi iniziare a metterti a contare non lo riesce a fare ok quindi ciò significa che l'intuizione di una globalità non strutturata non è un concetto che abbiamo istintivamente invece quello che abbiamo molto più istintivo è vedere un insieme di forme nello spazio dividerle per colore oppure dividerle per forma spiky con le punte o rotonda buba e chichi direbbero i linguisti e quindi io penso che la teoria delle categorie sia uno di molti linguaggi lo trovo molto naturale per diversi motivi perché condivido la la impostazione filosofica da cui parte perché l'ho studiata per molti anni ok ma questo è solo abitudine ma anche perché la ritengo una maniera fruttuosa di organizzare pensiero matematico allo stesso tempo però sono convinto che una razza aliena che ha invece la capacità per motivi che non indaghiamo ma supponiamo che sia possibile di apprezzare molto meglio la di contare ad occhio le quantità in maniera molto più avrebbe per esempio una comprensione molto diversa dalla nostra e la combinatoria la struttura del gruppo simmetrico le permutazioni eccetera sarebbero molto più intuitive per loro la e questo ora mi scuseranno i linguisti che non sono d'accordo con l'ipotesi di Sapir-Whorf sono convinto sia una conseguenza diretta della forma del nostro linguaggio è un'opinione che non ho nessuna autorità per difendere è semplicemente una cosa che se io mi metto in una stanza davanti a una birra con una persona che è esperta penso di avere un minimo di cognizione di causa per difendere la mia idea però sono anche curioso di sapere cosa pensa lo stato dell'arte insomma il mio punto è la lingua che la struttura delle lingue che parliamo che in arrival viene detto la lingua degli umani sono fatte in questo modo quelle degli alieni per motivi che non vengono mai indagati con un salto di con una sospensione dell'incredulità per il lettore ascoltatore viene postulato che la lingua degli alieni sia talmente espressiva a livello morfologico da permetterti di vedere di di prevedere il futuro perché si dipana non solo nella in questa nel letter nella nell'aria ok ma anche nel tempo e ti permette quindi di parlare questa lingua che è talmente raffinata da permetterti di capire che questi eventi porteranno a questi altri eventi ok ora questa è fantascienza chiaramente però io sto dicendo la lingua la struttura particolare peculiare delle lingue che parliamo è ovviamente indotta da la biologia dalla evoluzione dalla particolare struttura della non solo della fonazione dell'apparato che ci permette di parlare ma anche dalla struttura del cervello dalle cose che il cervello è capace di percepire organizzare efficientemente la l'incapacità di ricordare a memoria una successione di numeri per esempio è una cosa che per sviluppare il linguaggio abbiamo dovuto perdere perché non c'era spazio bisognava decidere se è meglio avere un'abilità che invece è estremamente pronunciata negli scimpanzè se gli mostri uno schermo con i numeri da uno a dieci per una frazione di secondo loro sono capaci di premere i bottoni nell'ordine uno due tre quattro fino a nove e noi no perché beh l'ipotesi che è stata fatta noi sappiamo parlare loro no nel processo evolutivo c'è stato un trade off probabilmente io ho letto questa cosa che è un'ipotesi molto antica adesso probabilmente è stata smentita o raffinata comunque l'idea è c'è stato questo trade off tra le abilità cognitive che permettono di distinguere una successione di simboli e metterli in ordine ad occhio in frazione di secondo e invece le abilità cognitive che permettono la metacognizione o lo sviluppo del linguaggio e è una cosa che mi interesserebbe capire per quale motivo o una o l'altra perché non posso avere entrambi cosa dice questo sulla struttura del cervello e del linguaggio perché se non posso avere entrambi i linguaggi non saranno particolarmente adeguati per distinguere diciamo ci saranno molte sottigliezze nella realtà che il linguaggio non è capace di esprimere e ci saranno linguaggi più espressivi di altri dove quelle distinzioni saranno invece palesi all'occhio ecco e questa cosa è questa è un'altra ipotesi che è stata fatta in linguistica o filosofia del linguaggio non so dove localizzare questa idea ma lingue che non hanno nomi che distinguono colori che altre lingue distinguono chi le parla è meno capace di distinguere il verde dal blu ok o il blu dal viola e c'è un pattern molto specifico nell'evoluzione di una lingua in cui non è che tutti i colori sono i nomi per i colori sono nati allo stesso tempo prima c'è stata una distinzione binaria bianco nero poi sono arrivati credo il rosso il marrone il viola poi il giallo il verde e il blu per ultimo se non fino a non arrivare affatto in alcune lingue perché cosa è successo qual è il motivo profondo per cui questo la biologia certamente ha da dire del suo su questa cosa la neurofisiologia ha da dire del suo ed è chiaro che questo influenza il linguaggio che parliamo ed è chiaro che allora influenza anche la matematica che facciamo quindi questa lunga disamina per dire questo che vogliamo capire la matematica dobbiamo studiare il linguaggio vogliamo capire il linguaggio dobbiamo studiare la matematica non c'è scampo dobbiamo fare un po' di tutto e dobbiamo anche adeguarci a essere costantemente ignoranti in qualcosa più competerebbe associarsi mettersi in gruppo altra cosa che io ho cercato di fare per molto tempo trovando delle persone competenti e appassionate abbastanza da dire vabbè io penso alla matematica tu pensi all'altra cosa e facciamo una cosa figa però purtroppo sei la vita va bene va bene allora passiamo alla prossima domanda secondo te perché il mio professore di matematica diceva che la statistica non è matematica la teoria delle probabilità è matematica? allora sì qui ti ho dato una risposta molto apodittica in cui ci ha detto no è così allora la teoria della probabilità è certamente matematica perché è stata assiomatizzata da un matematico molto famoso di nome Kolmogorov un russo e la statistica invece forse è un po' in una zona limbo perché boh per come la intendo io la statistica è fondamentalmente o è analisi dei dati e allora ha a che fare con una cosa molto non voglio dire ingegneristica in senso dispregiativo però è c'è questo corpo di dati immenso lo voglio analizzare e voglio trovare per esempio delle regolarità ok in quanto approccio globale ad un problema astratto questo si può matematizzare ma non si può assiomatizzare e questa è un po' la differenza secondo me e poi c'è un altro problema che c'è però la statistica diciamo che ha che è mescolata con l'economia che secondo me è più una forma di cabala che di scienza esatta perché si basa su e di nuovo ti dicevo per fortuna che è esistito John Nash che a un certo punto ha cercato di trovare un minimo di regolarità appunto un approccio un po' più formale con una teoria anche molto elegante perché è di fatto una si basa sull'analisi la topologia sostanzialmente ti dice che si possono ridurre dei problemi di economia e di giocatori che vogliono vincere entrambi lo stesso premio e molte altre cose a dei problemi di equilibrio così come ci sono in fisica l'equilibrio dinamico di un sistema c'è anche l'equilibrio in questo senso e matematicamente è essenzialmente lo stesso linguaggio e c'è un gruppo di persone che si occupa di teoria dei giochi e questa modelli per la di teoria di giochi usando la teoria delle categorie non riesco a dire in una frase sola esattamente che cosa fanno e però lascio ai posteri decidere se questa è una cosa sensata da fare che ha una sua che ha una sua legittimità o no però adesso c'è gente che ci lavora quindi ok passiamo alla prossima domanda Wittgenstein non si può spiegare bene in 50 parole è troppo complicato per capire il linguaggio di Wittgenstein ci vogliono mesi di studio quindi non si può spiegare in 50 parole anche se uno chiedesse di spiegare Cantor in 50 parole voi ci riuscireste? allora per quanto riguarda Wittgenstein io torno a chiunque abbia fatto questa domanda la mia controdomanda cioè l'inizio del Tractatus di Wittgenstein è il seguente testo 1 il mondo è tutto ciò che accade 1.1 il mondo è la totalità dei fatti non delle cose 1.11 il mondo è determinato dai fatti e dall'essere essi tutti i fatti 1.12 poiché la totalità dei fatti determina ciò che accade ed anche tutto ciò che non accade 1.13 i fatti nello spazio logico sono il mondo 1.2 il mondo si divide in fatti e via così per una sequela molto lunga di sentenze apodittiche ok ora la mia domanda è cosa vuol dire questa lista di frasi non significa assolutamente nulla non ha significato è il proclama appunto completamente apodittico che non lascia spazio alla controbattuta di una persona vabbè a parte un personaggio singolare per le cose che faceva in trincea non entriamo in dettaglio e a parte con una sua visione molto peculiare delle cose di tutte le cose a questo punto ok ma diciamo anche idolatrato da Russell come pupillo di Russell idolatrato da Russell come super intelligente e tutto ma io sinceramente sono non mi reputo incapace di seguire un discorso formalizzato un discorso rigoroso anche soprattutto dopo tutto questo tempo che ci spendo quasi tutti i giorni nella mia vita eppure leggo queste frasi e non significano assolutamente nulla per me non anche perché dalla da un esercizio semplicissimo di sillogismo aristotelico da queste dichiarazioni che io sono perfettamente d'accordo a prendere come assiomi va bene lo compro però vediamo dove portano si trovano delle 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 deduzioni si si inferiscono delle deduzioni che sono del del nonsense assoluto sono sembrano sai quei calembur linguistici che facevano i surrealisti ok solamente con una patina di filosofia seriosa accigliata che il mondo è la totalità dei fatti non delle cose certo cos'altro potrebbe essere ma se il mondo è tutto ciò che accade ma il mondo è la totalità dei fatti e non delle cose tutto ciò che accade e la totalità dei fatti sono il mondo e quindi sono uguali tra loro quindi se tutto ciò che accade e la totalità dei fatti sono uguali tra loro sia tutto ciò che accade è determinato dai fatti sia la totalità dei fatti è determinata dai fatti e dall'essere essi tutti i fatti. Ora, che la totalità dei fatti sia determinata dai fatti e dall'essere essa tutti e soli i fatti non è una idea filosofica particolarmente profonda che la teoria degli insiemi riesce a enunciare nello stesso modo, con la stessa profondità, allo stesso livello di tautologia, in molto meno spazio e con molta meno farragine è data dal fatto che il mondo, i fatti, la totalità sono dei concetti che sono carichi già di un loro significato e è inevitabile leggere questo significato proprio per una forma di pareidolia la persona che legge interpreta in maniera letteraria questi asserti, che è proprio quello che non deve fare in una situazione del genere e io sono convinto, se lo chiedi a me, so che questa idea fa incazzare le persone ma chi vede del significato in queste frasi non è altro che preda di un'allucinazione oppure vede del significato perché glielo attribuisce già cioè dice, ah certo, è ovvio il mondo è la totalità dei fatti e i fatti sono determinati dall'essere tutti i fatti del resto però, i fatti nello spazio logico sono il mondo ma il mondo è anche la totalità dei fatti quindi i fatti sono i fatti nello spazio logico cosa diavolo vuol dire? perché io, sei d'accordo con me? io ho preso A è uguale a B B è uguale a C, ho fatto A uguale a C, transitività e ho dedotto un ulteriore corollario di queste azioni ora, i fatti sono i fatti nello spazio logico spiegami cosa vuol dire perché A è A nello spazio logico allora A è A dentro B ma allora supponendo di fare questo piccolissimo esercizio di calcolo proposizionale come si sta comportando questo sistema formale? cosa sta dicendo esattamente Wittgenstein? e soprattutto Wittgenstein era a conoscenza di questa maniera di leggere il suo lavoro? cosa risponderebbe lui? io penso che questo sia la conseguenza della questo modo di leggere il testo è il modo in cui lo legge un matematico secondo me un matematico particolarmente rompicoglioni quale io sono ok, lo concedo del resto non mi sembra un punto di vista riducibile ad una sega mentale o riducibile ad una voler per forza a tutti i costi fare il bastian contrario della platea e dire no, io a questa cosa non credo oppure se vuoi che ci creda me la devi spiegare meglio perché io accetto la critica che anche la matematica fa qualcosa di simile ne abbiamo parlato a lungo che alla fine sia mettersi d'accordo sul fatto che queste cose le vediamo tutti ed è indubitabile che la nostra percezione funzioni a questa maniera e quindi sono questi gli assiomi che scriviamo e non altri e questo sia completamente arbitrario è basato su come noi vediamo il mondo noi, noi proprio esseri umani ma c'è modo e modo e c'è punto di partenza e punto di partenza perché sì la stragrande maggioranza delle persone accetta che la percezione avvenga secondo le leggi della teoria degli insiemi raccogliamo in conglomerati collezioni di oggetti di cui vogliamo parlare volta per volta sta benissimo e poi facciamo, costruiamo un linguaggio che dica questo troviamo dei modelli per questo linguaggio non sempre si può fare e così via ma qui cosa stiamo facendo? stiamo dando questa lista di assiomi senza specificare minimamente cosa vogliono dire perché questi e perché non altri perché così e non sottilmente diversi perché per esempio il mondo è la totalità dei fatti e non la totalità dei fatti veri così, proprio pensiero da completo neofita ok, cambiamo la definizione funziona anche meglio suona persino meglio il mondo è la totalità dei fatti veri perché la luna è un satellite della terra e non è un pallone come credono i terrapiattisti o un ologramma ok, il mondo è la totalità dei fatti veri quindi l'asserzione il fatto la luna è un pallone sonda non è un fatto vero e quindi vorremmo espungerlo dalla lista delle cose che diciamo sì, ovvio però non è questo quello che mi ha detto Wittgenstein non è questo che mi ha detto la verità rivelata di questo libro e Wittgenstein è solo un esempio voglio dire c'è chi ha fatto ben peggio ma il fatto che persino quello che viene considerato oh mio Dio come ha fatto a inventarsi questa cosa geniale io lo leggo e dico ma geniale cioè mi sembra un po' un'esagerazione e lo so che questo punto lo so che questo modo di vedere le cose suona arrogante ma suona arrogante alle persone secondo me che sono abituate a una sorta di autoritas verso l'individuo che siccome è riconosciuto come il vate bla bla il profeta della eh e poi il problema è sempre quello in filosofia le parole non hanno significato non si non e quindi il fatto che una frase non significhi nulla boh per loro sì è un fatto della vita nessuna parola significa mai nulla e beh che è una cosa che condivido anch'io ma beh c'è un limite anche a questa lassismo nella perché dopo certo se vogliamo fare qualcosa di concreto no dobbiamo metterci d'accordo che alcune parole significano qualcosa in più di niente comunque insomma questa cosa poi su Cantor non ho risposto sì comunque è possibile raccontare una storia su Cantor molto in breve e Cantor ha detto delle cose davvero non ha detto queste va bene va bene allora passiamo alla prossima domanda potete fare nomi e cognomi di questi filosofi italiani che parlano in maniera incomprensibile secondo voi lo fanno apposta per non farsi capire ovviamente i nomi no non si possono fare soprattutto perché non è che io ho in mente una persona in particolare qualcuno sì ma non è che voglio non è una cosa ad personam capisci è più l'andazzo generale della comunità ok e per quanto riguarda lo fanno apposta sinceramente sinceramente non lo so alcuni sì altri sono semplicemente incapaci di capire il tipo di critica a cui li esponi proprio perché non hanno la non apprezzano la sottigliezza della pensare in un certo modo e soprattutto alcuni prendono queste critiche a livello personale a livello cioè le mie teorie sono le tue teorie sono sbagliate e quindi tu sei un coglione non è che non è che questo non sia mai vero però a volte è semplicemente un dire ma guarda secondo me qui c'è un problema questo questa cosa non regge non possono essere vere entrambe il mondo la totalità dei fatti ma anche degli fatti nello spaziologico e quando glielo dici hanno alcune persone hanno questo sguardo bovino in cui si perdono e tu ti chiedi ma ha capito quello che gli ho detto cioè magari è un problema mio che sto non sto spiegando la mia perplessità magari sono stupido io che non sto capendo una cosa ovvia perché gli altri fanno ah sì certo si lisciano la barba e fanno ah certo una un'idea dirompente di dirompente genialità e e tu sei là che alzi la mano e questo mi è successo a varie lezioni di filosofia a cui ho assistito in cui il professore mi ha sciorinato davanti una un paragrafo di e io gli faccio non ho capito e lui mi ripete circa le stesse parole e io gli faccio d'accordo ma non ho capito quelle parole non è che ripetendo me le devi definire me le devi definire e poi a un certo punto ho desistito io ma perché non volevo essere non volevo troppa troppo palcoscenico capisci io lo faccio perché voglio capire lo faccio l'ho fatto in passato da giovane curioso di sentire come gli altri si confrontavano con gli stessi problemi con cui mi confrontavo io la logica il tempo lo spazio la geometria come queste cose interagiscono tra loro cosa significa il fatto che interagiscono eccetera 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 molti filosofi sanno chi è Tarsky ma ben pochi sanno cosa ha fatto di preciso Tarsky e qual è tecnicamente il linguaggio che ha utilizzato per affermare delle cose che qualsiasi filosofo può comprendere quando gli vengano presentate con tutti i prerequisiti necessari e il peso filosofico delle affermazioni di Tarsky secondo me è alla portata di quasi tutti i filosofi che hanno un minimo di know-how il fatto è che poi per entrare nel merito bisogna parlare di un po' di logica proposizionale i connettivi la topologia per quale motivo la topologia beh perché Tarsky essenzialmente ha detto possiamo trovare dei modelli per delle logiche fatte così e cosà usando il linguaggio della topologia immagina tu spiegare ad un filosofo cos'è la topologia fedele rimanendo fedeli a cosa in effetti essa è per un matematico o per un logico logico-matematico alcuni ce la fanno ma perché studiano perché voglio dire non è che sapere la matematica sia questa scienza infusa i libri sono là leggeteli alcuni lo fanno e lo fanno anche proficuamente un famoso categorista molto bravo che si occupa proprio di logica fondamenti Steve Owaday è un filosofo di informazione lui ha studiato filosofia e poi si è messo sui libri e non è che c'è la ricetta magica ti metti sui libri passa qualche anno o hai imparato la matematica che sorpresa quindi è che c'è proprio questa barriera di comunicazione per cui la critica non viene percepita perché mancano i requisiti per comprendere la domanda a volte si ha l'impressione e magari questo succede anche viceversa ti si fa una domanda e però tu ti rendi conto che per spiegare cosa significa la risposta veramente a chi te l'ha fatta non è che c'è una maniera più semplice di ti devo spiegare un po' di algebra lineare un po' di topologia e dopo possiamo iniziare a parlare di e vabbè e allora se mi devi raccontare questa storia allora dillo prima che non mi vuoi rispondere no non è che non ti voglio rispondere figlio mio è però che ci servono delle idee preliminari perché altrimenti io ti lancio la risposta e tu non capisci nulla non capisci nulla è chiaro e com'è iniziata questa chiacchierata si può spiegare in dieci parole attivare le categorie sì se queste parole sono molto difficili sì le trovo dieci parole ma dopo tu non le capisci perché dopo ti devo spiegare ogni singola parola delle dieci e ogni parola ne necessita dieci ognuna di quelle dieci ne necessita altre dieci e sappiamo tutti e due che esponenzialmente quindi sì ogni dimostrazione è una dimostrazione in una riga se la scrivi su un foglio abbastanza largo quindi sì va bene va bene sei stato chiarissimo andiamo mi fa piacere allora andiamo alla prossima domanda ah ecco ma tu quando dimostri un teorema usi l'istinto capisci la soluzione prima ancora di dimostrarla oppure fai solo un ragionamento dipende molto dal tipo di problema ovviamente perché alcune cose si dimostrano boh facendo un conto chissà se sono vere o sono vere o sono false faccio il conto e vedo se è vero o è falso di converso ci sono dei problemi che sono più della forma che cos'è veramente questo oggetto allora hai voglia a fare un conto perché lì devi pensare ho già visto qualcosa di simile nella mia vita sì dove no boh cerchiamo magari c'è qualcosa che somiglia ma non è esattamente lo stesso quello è un processo molto più dialettico diciamo non è partire a treno fare il conto vero e falso a casa molto spesso si tratta di dare una definizione o di trovare le ipotesi a cui in cui un teorema è vero si tratta di avere una congettura che magari sì quella è la vedi in un sogno ok e dopo però buona fortuna a capire come si dimostra se si dimostra le congetture famose del genere sono molte alcune congetture nascono dal notare che in dei casi diciamo per tutti i numeri di questa forma è vera questa uguaglianza è vero anche per numeri o diciamo è vero per tutti i numeri di questa forma minore di 15 ok allora è vero per tutti o no eh bella domanda perché se tu continui a fare una dimostrazione che è lo vedo per questo lo vedo per questo poi lo vedo per questo i numeri hanno questa proprietà fantastica che non finiscono ecco e quindi non finisci nemmeno tu però c'hai anche altre cose da fare nella tua giornata e quindi devi inventarti una maniera di dimostrare tutto in un colpo per tutti l'enunciato è ok e qua dipende nel senso che ci sono delle tecniche standard l'induzione per esempio giusto per nominarne una ma non è che tutte le cose tutti gli asserti sui numeri naturali si dimostrano per induzione per esempio i numeri primi sono infiniti come si dimostra di certo non per induzione perché hai n numeri primi e mo non lo sai cosa fare e quindi devi inventarti un'altra cosa e ti inventi un'altra cosa poi dopo ti chiedi è vero che quest'uguaglianza con i binomiali moltiplicati tra loro alzati la settima potenza è vera? beh vediamolo per n uguale a 2 n uguale a 3 magari n uguale a 4 se proprio il pomeriggio libero e poi però dopo bisogna trovare una dimostrazione che lo faccia l'induzione in questo caso ha molto spesso e molto d'aiuto però ecco i tipi di congettura sono anche molto diversi tra loro quindi veramente non c'è una regola generale le cose si dimostrano perché la divinità ti sussurra nell'orecchio la notte c'era Ramanujan che diceva guardate che io non ho fatto niente c'è la dea che mi sussurra nell'orecchio come si dimostrano le cose beato te dammi il suo numero ok passiamo alla prossima domanda perché la maggior parte della gente dice che la matematica è difficile possibile che dipende sempre dai professori non può essere che la matematica è una materia più difficile e basta è complicato rispondere a questa domanda anche se è legittima ed è fatta in un tono molto immagino non lo so che sia uno scolaro uno studente un ragazzo ok la matematica dovremmo parlare per settimane della matematica che si insegna a scuola e io avrei da lamentarmi per settimane sul fatto che viene insegnata male e troppo poco e con per esempio io non dico che l'avevo in odio quando ero uno studente liceale però ero allo stesso tempo completamente disincentivato a saperne di più e allo stesso tempo però percepivo questo per il merito è quasi completamente delle menti illuminate dei miei professori di filosofia e di lettere che mi hanno convinto mi hanno instillato questa idea che non è che che è quella che porto avanti tuttora che la il linguaggio scientifico matematico logico fatto bene sia sostanzialmente la maniera seria di occuparsi di problemi filosofici e di linguistici e compagnia cantante questa fortuna non ce l'hanno tutti ok perché io con dei professori di matematica assenti o grigi completamente non entusiasmanti non vedevo il punto di e soprattutto vedevo solo la difficoltà la questa questa serie di fatti slegati tra loro che dovevi ricordare tutti allo stesso tempo senza la minima ok questo fa sembrare la disciplina molto più difficile di quello che è c'è una difficoltà ineliminabile come c'è in tutte le cose imparare una lingua per esempio non è molto diverso non è che l'inglese o il tedesco siano lingue difficili o il russo ci sono lingue più difficili di altre ecco matematica sta un po' sopra tutte quante perché è molti linguaggi allo stesso tempo è anche una sorta di metalinguaggio insomma ecco è complicato è oneroso studiare matematica iniziare soprattutto l'energia di attivazione però andrebbe presa per quello che è è un'altra lingua che è comodo imparare perlomeno nei suoi fondamentali soprattutto perché la società va verso non so se ho già fatto questa prolusione sulla andazzo della società ormai io sto invecchiando no quello che voglio dire è nell'arco del tempo i miei i nostri genitori non erano costretti ad avere un minimo di educazione di alfabetizzazione informatica noi già si per la società in cui viviamo adesso in cui abbiamo 30-40 anni adesso i nostri figli e nipoti sempre di più e sempre di più e sempre di più e non è che questa alfabetizzazione non va di pari passo col sapere meglio più matematica cioè ad avere una conoscenza più approfondita di molti più concetti matematici e quindi a un certo punto si romperà il silenzio si dovrà affrontare l'elefante nella stanza della insufficienza nel dare una formazione matematica ai ragazzi dai 6 ai 19 anni perché è insufficiente palesemente insufficiente una persona che farà il meccanico d'auto in 40 anni secondo me un po' dovrà saper programmare o perlomeno dovrà sapere quel minimo di il meccanico che riparava la 500 a mio padre credo è già tanto se sapesse leggere scrivere no scherzo però nel senso parlo e parlo dei primi anni 90 ok quindi un meccanico già anziano capisci perché per carità io non critico assolutamente non è una cosa classista o al sì l'accademico eccetera anzi è l'esatto contrario è il fatto che io riconosco l'ubiquità della dell'importanza per tutti di un'educazione di base che in effetti quello che che vorrei spingere quello che il cambiamento di cui io cerco di essere parte facendo il mio mestiere è spiegare alla gente che la matematica è difficile quanto imparare il russo ok non ti serve non impararlo ma non pensare che chi lo impara è un mentecatto ok o una persona allo stesso tempo ti serve imparane un po' senza lamentarti fine non c'è nessuna sovrastruttura filosofica è il fatto che invece molti si lamentano alcuni si lamentano a ragione perché gli viene presentato questa maniera molto immagina imparare una lingua ok senza però ascoltare mai un uno che un madrelingua mai solo pedissequo aprire i libri fare gli esercizi di cui non vedi il motivo di cui non vedi la ragione conversazione non pervenuta ascoltare un'audiocassetta con un dialogo semplicissimo zero solo una persona che spiega alla lavagna le regole i casi i verbi le coniugazioni eccetera c'è i tempi verbali e poi una marea di esercizi che ti chiedono di ripetere quello che hai ascoltato pedissequamente si impara il francese dopo cinque anni di una vita del genere no ci si vuole impiccare santo cielo e dopo magari compiti delle vacanze leggete la nausea di Camus in lingua originale santo cielo un minimo di un minimo di livellare il grado il grado dell'apprendimento a quello che hai effettivamente insegnato perché ci credo che dopo vieni esposto a questi a questi problemi che non sono difficilissimi ok che sono appena sopra il livello basilare ma quel livello basilare tu lo hai galleggiato e non perché sei stupido non perché sei indisponente recalcitrante no la matematica non mi piace ci credo che non ti piace che te l'hanno fatta odiare in tutti i modi possibili come l'hanno fatta odiare o perlomeno come hanno fatto di tutto per farla sembrare una cosa tiepida e inutile a me che poi ho finito per farla di lavoro il fatto è che poi tu ti rendi conto la maggior parte dei pensatori occidentali è stata o un matematico o un matematico e un filosofo o un filosofo di enorme influenza nel pensiero matematico ti posso fare 50 non ok ma dai primordi della la distinzione tra una disciplina e l'altra esiste solamente per un figmento della cultura occidentale non non aveva non ha alcun senso dire ma Pitagora era un matematico era un filosofo Euclide Platone cioè queste persone sapevano le cose perché il sapere era un concetto indistinto prerogativa della classe aristocratica e tutto quanto e non è che si poteva fare sì ci sono le discipline le varie ma come fa una persona a dirsi istruita senza sapere la geometria ha detto a un certo punto Platone non entri chi non è geometra nella mia accademia e c'ha ragione e poi dopo i nomi si fanno sempre ad ogni cantone quindi non li farò di nuovo ma il pensiero occidentale è indissolubile dal connubio tra i due tipi di sapere e abbiamo reciso questa questa fratellanza per gentile di nuovo per la solita storia perché Enriquez un matematico prominente della 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 Italia della scienza italiana del primissimo novecento era invece un fautore dell'insegnare matematica ai ragazzi della nascente scuola superiore come il novecento ha anche definito un po' la maniera in cui l'educazione superiore che a quei tempi doveva formare la classe dirigente quindi non era per tutti ma manco per sogno però ha definito una forma standardizzata di educazione superiore ok Enriquez ha detto beh ma a questi ragazzi bisogna insegnare il greco e il latino ovviamente perché dove vai senza il greco e il latino e poi però bisogna insegnargli la matematica molto meglio se letta sui libri in greco e in latino in originale perché imparando la geometria euclidea non perché poi devono fare i filologi della scienza su queste cose superiore no no proprio anche gli ingegneri che devono costruire i ponti ovviamente devono sapere un po' di trigonometria perché altrimenti puff devono essere in grado di apprendere la scienza l'arte nella sua forma originaria ovviamente e devono leggere gli elementi di euclide in greco ovviamente nelle traduzioni ma nelle traduzioni più accurate possibile e questo per tu non dico universalmente per tutti però l'idea era il sapere umanistico il sapere scientifico sono solo due maniere diverse due punti di partenza diversi per fare circa la stessa cosa su via perché tutti abbiamo a cuore lo stesso tipo di problemi siamo figli dello stesso tipo di cultura abbiamo lo stesso tipo di riferimenti culturali non solo tecnici ma anche artistici voglio dire quale matematico non apprezza quale umanista non apprezza Bach ok quale matematico non apprezza Bach per motivi sottilmente diversi ma alla fine ci piace Bach questo è una cosa interessante e io parlo del motivo per cui cazzo Bach era un genio un umanista Bach era un genio sì siamo d'accordo per motivi diversi quindi era un genio doppiamente ok e da queste cose dovremmo essere uniti invece no siamo separati dalla prospettiva gentiliana che sì vabbè la matematica adesso la logica non è che dovete montarvi la testa queste sono ingegni minuti ok perché la vera filosofia è la storia della filosofia è certo ci mancherebbe il vero il vero giocare a calcio è raccogliere le figurine quello dovremmo far fare ai ragazzi non prendere il pallone e divertirsi quello le figurine scambiandosele con questo eh l'analogia è la stessa con questa foga quasi sacrale ah sì ce l'hai quella no prendete il pallone e fate qualcosa divertitevi sbagliate io dico per esempio quello che insegno e io non insegno dei ragazzi quindi sono delle persone già formate ma io gli dico fare errori nel dimostrare un asserto è l'unica maniera di imparare a non fare errori per dimostrare un asserto quindi una io valuterò sempre per tutti voi molto positivamente una persona che prova a fare una cosa con tutto se stesso e poi sbaglia in maniera clamorosa invece di uno che pur di non sbagliare non dice niente non fa niente non dice ah no non non ho fatto gli esercizi per l'esame perché non me la sé non capisco eccetera oppure perché sono sicuro di non aver capito nulla vediamo parlami di qualcosa la una 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 linea un metodo corretto che dà la risposta sbagliata questo dico è molto più importante ed è molto più valido della risposta giusta ottenuta per il motivo sbagliato e il tipo di domande a cui espongo i miei studenti non è mai dimmi se fa 26 21 3 o meno 12 questa espressione e pensa a questo problema fai caso a questa analogia spiegami perché questo pattern si ripete in diverse situazioni molte sono domande aperte che sono una maniera di vedere cosa la persona ha compreso come sa ragionare se mi ha ascoltato quando gli ho detto che c'è questa ragione universale perché questo teorema questo teorema e questo teorema sono in realtà lo stesso risultato in contesti diversi e questo non è che ci vuole tanto però allo stesso tempo ci vuole una cosa che nessuno possiede cioè la possibilità di vedere la matematica dall'alto trasversalmente e spiegarla con questa trasversalità in maniera tale che non sembri questo oggetto arcano astruso completamente divorziato dalla realtà sensibile perché non è nessuna di queste cose ora va come ti ho detto potrei parlare per ora di questo del motivo per cui insegno in un certo modo delle cose che insegno dell'accento che pongo su questo e non quest'altro ed è l'esatto contrario di quello che probabilmente questo ragazzo ha visto ecco io a questo ragazzo io dico fuori dalla scuola appena possibile se ti piace o semplicemente questa persona ha una curiosità per la matematica che la approfondisca senza decidere sulla base di quello che ha visto perché quel poco che ha visto che è la punta della punta della punta di un iceberg è persino sbagliato se non concettualmente cioè se non tecnicamente e concettualmente cioè metodologicamente il metodo che gli è stato è quasi sicuramente sbagliato e quindi la visione della materia che ha è completamente falsata poi una volta che ha visto la cosa per quello che è può decidere se gli piace o no se le piace o no ma prima no non ha senso decidere per decidere della propria dei propri gusti sulla base di cosa qualcuno ti ha detto cinque anni prima mi sembra un po' ecco rovinarsi la vita ok ok allora passiamo alla prossima domanda si può fare matematica senza matematica questa è è una domanda che non può avere una risposta e soprattutto perché cosa posso dire sì no va ben tutto però è una domanda è una domanda molto zen questo l'ho apprezzato allora io se posso vorrei usare questa domanda per esprimere un concetto elementare che però a mio avviso è molto importante e spesso viene troppo trascurato una scienza contemporanea senza la matematica è inconcepibile la scienza moderna senza la matematica è impossibile persino la scienza antica diciamo quella precedente a Galileo Galilei per intenderci non si può fare senza la matematica a meno che non ci sia contenti di una scienza molto elementare meramente qualitativa descrittiva catalogativa che è superficiale e rozza pensate alla fisica contemporanea i fisici per fare quello che devono fare hanno bisogno di una quantità di matematica enorme ma il problema non è soltanto la quantità e anche e soprattutto la qualità cioè necessitano di una matematica molto potente ed estremamente raffinata e qualcuno gliela deve produrre questo però è solo un lato della faccenda perché c'è un altro lato e cioè quando una teoria fisica viene sviluppata è necessario poi sottoporla a un processo di chiamiamolo ripulitura matematica cioè bisogna togliere le cose che non servono bisogna raffinarla risistemarla renderla precisa elegante rigorosa eccetera solo dopo aver effettuato questo processo noi possiamo dire di aver davvero capito quella teoria fisica è un po' come il lavoro dello scultore e qualcuno deve farlo quindi da questo punto di vista la matematica interviene nella scienza in questo caso nella fisica da un doppio punto di vista non so cosa ne pensi tu di questo Fosco se sei d'accordo o meno certo sono d'accordo direi persino qualcosa di più forte cioè che di solito si tende a dire la fisica la chimica le scienze dure sono indissolubili dalla matematica sono già state matematizzate per la maggior parte se non totalmente parti parti della fisica completamente matematizzate altre meno ovviamente ma io penso che ci siano dei grandi assenti in questa lista cioè Kennedy che che cosa sarebbe molto bello trovare una matematizzazione più precisa più profonda per cose come la genetica la biologia evolutiva la la linguistica tutte quelle cose che sono riconosciute come delle scienze però gli manca un'impostazione assiomatica la domanda è gli manca manca a queste discipline perché non si può trovare o manca perché non l'abbiamo ancora trovata o manca perché non sappiamo che pesci pigliare nel trovarla e sono tre problemi molto diversi che meritano comunque di indagare la risposta più a fondo c'è un libro molto bello che si chiama metodi matematici della teoria dell'evoluzione un libro in italiano tra l'altro meraviglioso sì sì lo conosco che inizia con essenzialmente inizia come un testo di logica perché propone le ipotesi che sono state fatte nel corso del tempo su cosa possa essere una assiomatizzazione di che cos'è un modello scientifico di che cos'è una teoria degli organismi viventi una teoria dell'evoluzione all'interno di questo cioè tutti riconoscono la teoria dell'evoluzione di Darwin come l'unico modo vero in cui si può fare è questa parte di scienza ma cosa significa immaginiamo di avere un modello matematico che descrive la biologia così come abbiamo che ne so un modello del genere che descrive con enorme accuratezza e globalmente la meccanica newtoniana cos'è il principio la teoria dell'evoluzione di Darwin in questo modello è un oggetto all'interno del linguaggio è una sovrastruttura è una proprietà del modello questa è un'ottima domanda e solo un matematico di enorme cultura può cercare di rispondere a questa domanda oppure un collaborazione tra una persona di enorme cultura e spessore matematico e una persona di enorme competenza nelle scienze della vita e una volta fatto quello santo cielo abbiamo almeno tre Nobel nella nella saccoccia capisci perché a parte quanto bello sarebbe a parte quanto anche secondo me inizierebbe darebbe la necessità di fare ancora più matematica ancora meglio in ancora più dettaglio perché adesso non possiamo descrivere solo i pianeti ma anche l'evoluzione dei funghi nel corso dei milioni di anni e che figata eh sì quindi vedi e questa cosa e di questa cosa c'è zero nella stato dell'arte contemporaneo oppure degli esperimenti molto campati in aria quindi vedi c'è un'infinità di cose da fare oggi 2023 quando una persona sa è innamorata del linguaggio matematico ci sono milioni di posti dove usarlo proprio eh tanti così allora io casualmente ho guardato l'ora e mi sono accorto che è trascorso un'ora e mezza eh ho la percezione che siano trascorsi due minuti starei a parlare anche io sei ore anch'io mi sento uguale quindi va bene salutiamoci dai sì io allora innanzitutto non temete risponderemo anche alle altre domande non erano solo queste ho promesso ho promesso sì risponderemo a tutti quindi la prossima volta mi raccomando mi raccomando rimanete sintonizzati io saluto Fosco saluto tutti voi e ci aggiorniamo alla prossima volta grazie della pazienza nell'ascoltarmi ciao 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 ciao